L'uomo femmina Quante volte sentiamo dire Simpatico quel tale, ma è una femminuccia, una vera femmina. Si allude in questo modo all'uomo femmina, la piaga del nostro paese. Perché in Francia siamo tutti uomini effeminati, almeno nel carattere, e cioè mutevoli, lunatici, innocentemente perfidi, senza convinzioni profonde e senza volontà continua. Violenti e fragili, come certe donne. Ma di questi il più irritante è di certo il parigino che frequenta i grandi viali. In lui è notevole la verniciatura di intelligenza, ma egli raduna in sé, esagerati dal temperamento maschile, tutti i difetti e tutte le seduzioni delle puttane. La nostra Camera dei Deputati è affollata da uomini femmina. Formano il grande partito degli amabili opportunisti, che potremmo chiamare i seduttori. Sono quelli che governano con le paroline dolci e le promesse che non mantengono, che sanno stringere le mani in modo da conquistare i cuori. Dire, carissimo amico mio, in un certo modo delicato, a persone che quasi non conoscono. Cambiare di parere senza neanche accorgersene. Esaltarsi per ogni nuova idea. Credere sinceramente nelle proprie opinioni da banderuola. Lasciarsi ingannare come essi stessi ingannano. Non ricordare domani quel che avevano asserito oggi. Di questi uomini femmina sono piene le redazioni dei giornali e forse è qui che ce n'è il numero maggiore, ma è proprio qui che sono più necessari. Bisogna fare eccezione per qualche giornale, come il Giornal de Debats e la Gazette de France. Di sicuro ogni buon giornalista deve essere un po' puttana, e cioè ubbidire ai desideri della gente, agile nel seguire senza farsene un problema le varie sfumature dell'opinione comune, oscillante e mutevole, scettico e credulone, cattivo e fedele, mattacchione e assennato, entusiasta e ironico, e sempre con l'aria convinta, pur senza credere in niente. I stranieri, i nostri controtipi, come diceva la signora Abel, gli inglesi testardi e i duri tedeschi, sino alla fine dei secoli continueranno a guardarci con un certo stupore non esente da disprezzo. Ci accusano di essere leggeri. Non si tratta di questo. Il fatto è che siamo delle puttane. Forse per questo ci amano con tutti i nostri difetti e tornano da noi pur dicendocene male. Litizi da innamorati. L'uomo femmina che si incontra nella buona società è così affascinante che può conquistare con una conversazione di cinque minuti. Il suo sorriso sembra fatto per voi. Impossibile pensare che la sua voce non prenda in onor vostro inflessioni particolarmente suadenti. Quando vi congedate, avete l'impressione di conoscerlo da una ventina d'anni e se ve lo chiedesse sareste pronti a prestargli dei soldi. Vi ha seduto esattamente come una donna. Se agisce con voi in modo non del tutto corretto è così caro, quando lo rivedete, che è impossibile serbargli rancore. Chiede scusa. Avreste voglia di domandargli perdono voi. È bugiardo. Impossibile crederlo. Vi prende continuamente in giro con promesse che si rivelano sempre false. Vi servate gratitudine anche soltanto per quelle promesse, come se avesse rivoltato il mondo per farvi piacere. Quando ammira qualche cosa va in estasi con espressioni così convinte che subito siete convinto anche voi. Ha idolatrato Victor Hugo e oggi per lui è un vecchio imbecille. Avrebbe sfidato chiunque per sostenere Zola ma lo ha abbandonato per Barba e da Guerville e nella sua ammirazione non ammette mezzi termini. Sarebbe capace di prendervi a schiaffi per una parola ma quando disprezza non esistono limiti al suo sdegno e non accetta repliche. Insomma, non capisce niente. Sentite chiacchierare due di quelle signore citate poco fa. Così hai litigato con Giulia? Sfido e ho mollato un ceffone. Che t'aveva fatto? Aveva detto a Pauline che io faccio la fame 13 mesi su 12 e Pauline è andata a dirlo a Gontran. Capito? Non abitavate insieme in Rue Closel? Abbiamo abitato assieme 4 anni fa in Rue Breda poi abbiamo litigato per un paio di calze. Lei pretendeva che me le fossi messe io. Mica vero. Terte calze di seta che aveva comprato dalla Martain. E allora Giubot. E lei se l'è filata. L'ho rivista 6 mesi dopo. E lei, proprio lei, mi richiede di tornare a stare assieme visto che aveva preso in affitto una baracca troppo grande per lei. Non sentiamo il resto. Ma possiamo farne a meno. Ma la domenica dopo, recandoci a Saint Germain, ci capita di trovare due ragazze del nostro stesso scompartimento. Ne riconosciamo immediatamente una. È la nemica di Giulia. E l'altra? È Giulia. E tra loro, moine, affettuosità, parole dolci. Dimmi, Giulia. Senti, carissima Giulia. Eccetera, eccetera. Anche le amicizie dell'uomo femmina sono di questo tipo. Per tre mesi non può staccarsi dal suo caro Jacques. Dal suo vecchio, adorato Jacques. Non c'è che lui al mondo. Soltanto lui conta in tutta Parigi. Si incontrano insieme dappertutto. Pranzano insieme. Vanno a spasso insieme. E ogni sera si riaccompagnano insieme. Dieci volte dalla porta dell'una a quella dell'altro. Senza riuscire a separarsi. Tre mesi dopo, appena il discorso cade su Jacques. Quello è un furfante. Una carogna. Un mascalzone. Ho imparato a conoscerlo. Sì, è disonesto. È un cafone. Eccetera, eccetera. Passano altri tre mesi. Ed ecco che vanno ad abitare assieme. Ma una mattina veniamo a sapere che si sono battuti in duello. E poi abbracciati. E baciati. Tra le lacrime. Insomma, sono i migliori amici del mondo. Litigano a morte per sei mesi all'anno. Si caluniano a vicenda. E si adorano alla follia. Si stringono la mano da spezzarsela. E sono pronti a sbudellarsi, per una parola fraintesa. Infatti, i rapporti tra gli uomini femmina sono incerti. Il loro umore è variabile. Le esaltazioni sono a sorpresa. Le tenerezze pronte a sparire. L'entusiasmo soggetto a eclissi. Un giorno amano solo voi. E il giorno dopo vi guardano appena. Perché, insomma, hanno una natura, un fascino, un temperamento da puttane. E tutti i loro sentimenti sono simili agli amori delle puttane. Trattano i loro amici come quelle canaglie di donnine trattano i loro cagnolini. Un cagnetto adorato che abbracciano con slancio. Nutrano a zuccherini. Fanno dormire sul cuscino del proprio letto. Ma son pronte, in un momento di rabbia, a buttarlo dalla finestra. A farlo roteare come una fionda, tenendolo per la coda. A stringerlo sino alla soffocazione. E a tuffarlo senza motivo in una tinozza di acqua fredda. Che strano spettacolo è poi quello delle tenerezze tra una di queste signore e uno di quegli uomini di cui stiamo parlando. Lui la picchia e l'ailografia. Si odiano. Non si sopportano e non riescono a lasciarsi. Attaccati a vicenda da chissamai quale misterioso vincolo del cuore. L'ailo tradisce e lui lo sa. Ma si ingozza e perdona. Lui accetta il letto pagato da un altro. E in buona fede crede d'essere irreprensibile. La disprezza e l'adora. Senza pensare che lei avrebbe diritto di rendergli il suo disprezzo. Soffrono atrocemente entrambi per colpe reciproche senza potersi dividere. Da mattina a sera si buttano addosso cumuli di improperi e rinfacci a non finire. Accuse abominevoli. Poi sfiniti, tremanti di furia e di astio, si gettano uno nelle braccia dell'altra. Confondendo le bocche frementi e le loro anime da sgualdrine. L'uomo femmina è coraggioso e vile nello stesso tempo. Ha più d'ogni altro un senso dell'onore prossimo all'esaltazione. Ma gli manca quello della semplice onestà. Per cui in determinate circostanze può avere debolezze, può commettere infamie senza rendersene affatto conto. Perché obbidisce senza discernimento alle oscillazioni di una coscienza che si lascia sempre influenzare. Imbrogliare un fornitore gli pare un atto consentito, quasi obbligatorio. Per lui è onorevole non pagare i propri debiti, a meno che non siano di gioco. E cioè un poco sospetti. È capace di imbrogliare la gente in quelle particolari circostanze che la buona società ammette. Se gli occorrono quattrini, ne prende in prestito con qualsiasi mezzo. senza farsi scrupolo di ingannare un po' colui che glieli presta. E tuttavia, pieno di indignazione sincera, è pronto ad uccidere con un colpo di spada chiunque lo sospetti di poca delicatezza.